La protesta dei trattori arriva anche a Pesaro Il caso ricece la Commissione Comafie del Parlamento Pesaro celebra il compleanno di Rossini nell'anno capitale Scalda ai motori il Carnevale di Pesaro, sfilata l'11 febbraio Dopo un appello social, i pesaresi Federico e Matteo approdano a Sanremo Una buona serata e un buon inizio del mese di febbraio A tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del Canale 80 Che in questa edizione di giovedì 1 febbraio Apriamo occupandoci delle proteste degli agricoltori Che si stanno moltiplicando in tutto il territorio europeo E anche Pesaro non fa difetto Visto che dal lunedì partirà una lunga settimana di mobilitazione Concentrata al casello autostradale L'onda di protesta dei trattori arriva anche a Pesaro La manifestazione internazionale degli agricoltori Contro norme europee reputate deletere per la categoria E che rischiano ripercussioni sulla qualità del cibo portato sulle tavole italiane Da lunedì 5 febbraio si riverserà anche sulle nostre strade Un serpentone di trattori da lunedì mattina inizierà infatti Un presidio al casello autostradale di Pesaro Presidio che sarà presente al casello ogni giorno fino a sabato Per chiedere attenzione al governo Nel sollecito verso norme europee da modificare È una protesta nata senza manifesti di sigle politiche o sindacali Ma attraverso un tam-tam di passaparola di singoli lavoratori agricoli Che ha già trovato l'adesione di oltre un centinaio di trattori Per il primo giorno di lunedì Arriveranno a Pesaro da tutta la provincia ma non solo Gli organizzatori stanno già registrando adesioni dal resto delle Marche E dalle vicine Romagna e Toscana Una settimana di manifestazione assolutamente pacifica Per rivedere le politiche sui vincoli alla coltivazione e alle importazioni Su provvedimenti discussi come cibi sintetici o farina di grillo Su norme di burocrazia e tassazione Che non mettono in condizione di continuare a coltivare la terra Altro argomento che già da mesi al centro di mobilitazione proteste È invece quello relativo al caso dell'ipotesi di discarica Da realizzare nella frazione petrianese di Riceci Un caso che proprio in questi giorni è sotto esame della Commissione Ecomafie del Parlamento In questi giorni la tanto discussa ipotesi di discarica di Riceci È arrivata fino a Roma in Parlamento Più precisamente alla Commissione Ecomafie Il tutto sulla spinta dei rappresentanti dei Verdi Onorevole Emilio Borrelli e Gianluca Carrabs A voler ascoltare le voci dei vari protagonisti E vedere le documentazioni inerenti alla discarica È la Commissione parlamentare bicamerale di inchieste sulle attività illecite Connesse al ciclo dei rifiuti e degli altri illeciti ambientali e agroalimentari Di cui Borrelli è vicepresidente Poiché, secondo il deputato dei Verdi Occorre fare chiarezza sulle modalità di legittimità amministrativa della proposta Oltre che di quella ambientale Da ieri, 31 gennaio, infatti il Parlamento ha iniziato a chiedere trasparenza sulla questione E il primo ad essere ascoltato è stato l'assessore all'ambiente della Regione Marchese Stefano Aguzzi Che ha definito la discarica di riceci Utile sulla Marche Multiservizi E non a Pesaro Orbino Se fosse per noi la questione sarebbe già chiusa Aurora aveva tempo fino al 13 gennaio Per presentare i progetti e le integrazioni richieste nel maggio 2023 E invece ha fatto ricorso al TAR contro queste ultime La Regione si è costituita in giudizio Ma la provincia con un suo dirigente Ha riaperto la trattativa che ha portato a questa proroga di sei mesi Sulla questione si è espresso anche il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli Che afferma di aver depositato già nelle settimane scorse Una interrogazione dettagliata alla Camera dei Deputati E che a breve depositerà anche una nota analoga All'Autorità Nazionale Anticorruzione All'Ispettorato per la Funzione Pubblica E Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica Il tema della discarica dunque Sembra non trovare fine E anzi viene portato con attenzione sotto gli occhi del Parlamento Sia da un lato politico Che dall'altro nel tentativo Che prima dello scadere di quei sei mesi di proroga Concesse da Aurora Si riesca a far definitiva chiarezza sull'argomento Entrata in servizio oggi Francesca Montereali Nuovo questore di Pesaro Urbino Primo questore donna del nostro territorio Nel suo ultimo incarico La Montereali era dirigente superiore Del compartimento di Polizia Stradale Per il Trentino Alto Adige Prende il posto di Raffaele Clemente Che va in pensione dopo una direzione Della questura pesarese Iniziata nell'autunno 2022 E' proprio il nuovo questore E in questi giorni ha visto grandi manovre In via Giordano Bruno Che è la via della questura Ma è anche la via del complesso San Domenico Almeno una delle vie complesse Che dal 24 gennaio Ha visto allestirsi il cantiere di riqualificazione Dell'edificio storico Che durerà fino a fine 2026 Nei giorni scorsi erano stati tolti i ponteggi Che oscuravano da tempo immemore La facciata dell'edificio Da oggi sono arrivate le nuove impalcature Per un lavoro da 8 milioni e mezzo di euro Che riporterà in vita un palazzo storico Destinandolo almeno in parte Anche a sede universitaria della città Questo è il primo giorno di febbraio Un mese che quest'anno si allunga Fino al 29 Visto che è un anno bisestile E il 29 febbraio È il giorno del compleanno Di Gioacchino Rossini Un appuntamento speciale Quello di quest'anno Con le settimane rossiniane Che avrà il corredo di tanti appuntamenti Dilatati dal 18 febbraio Fino al 6 di marzo Con l'apice il 29 febbraio Quando verrà ufficialmente inaugurato Il nuovo auditorium Scavolini Tutti gli anni celebriamo Tra compleanno e non compleanno Questo momento particolare Però è chiaro che Nell'anno della capitale italiana Dalla cultura Intanto si respira Anche quell'emozione Del 2018 Dell'anno del 150 Che fu un anno da ricordare Anche per le celebrazioni rossiniane Ma questa volta un di più Perché si sa di avere L'attenzione nazionale e internazionale Ancora più grande Attorno a questo periodo Che tra l'altro Si dilata in maniera importante Perché andiamo ad abbracciare Un periodo che va dal 18 febbraio Al 6 di marzo Quindi tante occasioni Che faranno un po' da lancio A queste settimane Veramente attese E che vedranno Ovviamente concerti In momenti notevoli Al Teatro Rossini Al Teatro Sperimentale Con la collaborazione Di vari soggetti Da l'ente concerti L'Orchestra Sinfonica Rossini Da Paolo Fresu A i più importanti brani rossiniani Eseguiti dall'Orchestra Sinfonica Fino alla giornata Del 29 Che chiaramente sarà Un po' il clou della festa Con la riapertura Dell'auditorium Scavolini Con una festa in musica E non solo in musica Dalle 18 in avanti Prima Nelle vie della città In Parlamento Sui Rossini Ci sarà Anche una grande torta A celebrare Questo tipo di Appuntamento E chiaramente pensata Per i più piccoli Ma non solo E alle 21 Al Teatro Rossini Invece è un momento In cui Attraverso la Messa di Gloria Attraverso la collaborazione Tra l'Opera Festival E Conservatorio In musica Si celebrerà al meglio Questa giornata Così straordinaria Passando per L'emissione Del Franco Bollo Che verrà raccontata Domenica 25 Mi sembra 25 di febbraio Che poi aprirà Una mostra Con il circolo filatelico Il tributo Del rombo Delle moto Benelli Che sfideranno Per la via Della città In una di queste giornate In un carosello Festante Con lo strumento Del motore Che in questo Produce una musica Un'armonia Che tributerà La sua festa Al nostro grande Concittadino Lo spazio Di Casa Rossini Della Galleria Rossini Che si va a dotare Il nuovo spazio Anche per piccoli concerti Dobbiamo aspettare Una serie di fuochi D'artificio Per tutti Quella è la cosa Secondo me più interessante Dai bambini Ai giovani Al pubblico Insomma più maturo Questi sedicenti Hanno creato Col comune di Pesaro Un'avventura Davvero Dei mille colori Piena di musica Di danza Di scoperta Di questa tradizione Della città Devo dire che Il gusto è quello Di tuffarsi nel programma Viversi tutte le giornate In particolare Il 29 Perché è la giornata Che capita ogni quattro anni Quindi insomma Il giorno che non c'è Il compleanno Del nostro Maestro di Pesaro Quindi una lunga festa Che nasce Da un livello Molto popolare Che è quello Delle istituzioni di Pesaro E si rivolge davvero A tutta la cittadinanza E a quanti vivono La città La città In questa occasione Speciale E come tante altre Manifestazioni Culturali O popolari Anche il carnevale Di Pesaro Il carnevale Dei ragazzi È pronto ad un salto Di qualità In questo anno Di Pesaro Capitale della cultura Carri e sfilate Che tornano in piazza Un antipasto Teatro Una maschera cittadina Che viola L'intoccabile terreno Del vicino Maxievento Fanese È un carnevale Dei ragazzi Che nell'anno Di capitale Della cultura Si ripropone In grande stile Nel centro Di Pesaro Una 67esima edizione Presentata oggi In municipio Con occhi All'appuntamento Di domenica 11 febbraio Ma non solo Divertimento Sfilate Gioia per i ragazzi Ma anche per gli adulti A livello organizzativo Quest'anno Avremo la possibilità Grazie al sindaco Ricci Di ritornare in piazza del popolo Quindi faremo Partenza piazzale Carducci Due giri e mezzo Con il finale grande In piazza del popolo Per gli ultimi lanci Per la proclamazione Del vincitore Infatti c'è la grande novità Del 2024 Pesaro Capitale della cultura Anche il carnevale Doveva avere qualcosa di nuovo Quindi la sfilata Partirà da piazzale Carducci Si concluderà In piazza del popolo Con il grande palco Che farà da sfondo A questa 67esima edizione Sono tante le parrocchie Che parteciperanno E anche delle allegorie Fuori concorso Che hanno chiesto Come anche altri anni Di poter essere presenti Sono nove le parrocchie Un carro Che sfilerà E gli altri Sono tutte sfilate a piedi Per l'occasione Di Pesaro Capitale Il carnevale Organizzerà anche Un antipasto teatrale Realizzato dall'arratorio Santa Maria Assunta Di Montecchio Che andrà in scena Questa domenica 4 febbraio Al teatro sperimentale Quest'anno finalmente Si propone uno spettacolo Nel teatro sperimentale Che inaugura Le celebrazioni Carnevalesche Questo spettacolo Poi viene da Vallefoglia Che come tutti sanno È il cuore del mondo Dopo che c'è stato Il presidente Della Repubblica E quindi Diciamo che è Una noventà in più Per far diventare Il carnevale Non solo un giorno Ma veramente Un periodo Non dico che vogliamo Fare come Venezia Però ci allarghiamo un po' Carnevale pesarese Che quest'anno Vedrà Rabachem Anche protagonista Di un inedito sconfinamento Nel vicino Carnevale di Fano L'ente carnevalesca Di Fano Ha l'abitudine E la consuetudine Di creare un sindaco Per la città Del carnevale Nel periodo giovedì Martedì grasso Quest'anno Il tema del carnevale Di Fano È il disturbo Quale maggiore disturbo Per i fanesi Avere un sindaco pesarese E quindi hanno chiesto A Rabachem Di essere sindaco Per quella settimana Del carnevale Il giovedì grasso Alle 18 Il sindaco di Fano Quello effettivo Il signor Seri Cederà le chiavi Della città Poi avremo L'occasione Del 12 Lunedì 12 Di un consiglio comunale Alla presenza Di un assessore Di Fano Un assessore di Pesaro Con dei nomi Degli assessorati Un po' particolari E due bambini Per altri assessorati E io sono sindaco In questo consiglio comunale Serio Faceto Boh Forse finirà Tra lucevini E vino Senza litigare Tra Pesaro e Fano Come dicevo prima In conferenza stampa La mia campagna elettorale È stata Con lo slogan Pizza Rossini Borodetto E Moretta Vita perfetta La fondazione Rete Lirica Delle Marche Apre il suo 2024 Con la messa in scena Di una delle opere Più note E amate Di Gioacchino Rossini La cenerentola Ossia La bontà Ine trionfo Titolo Che attraverso Il più celebre Compositore marchigiano Omaggia L'anno di Pesaro Capitale della Cultura In scena ci sarà Un allestimento realizzato In collaborazione con Il ROF E l'Accademia musicale Bernardo De Muro Di Tempio Pausania Che debutterà Al Teatro Della Fortuna di Fano Sabato 3 febbraio Alle ore 20 e 30 E dal Teatro di Fano Passiamo al Teatro Rossini di Pesaro Che domani venerdì 2 febbraio Ha un nuovo appuntamento Con la stagione Capitale di Danza Che prosegue Con Triple Bill Tre coreografie Di Marco Cantalupo E Katarzyna Gdaniec Noah Zucke E Sharon Friedman Per Naturalis Labor Sabato 3 febbraio Invece il Teatro Torna ad ospitare Playlist La rassegna musicale Che vedrà esibirsi Il Balanescu Quartet Un ensemble nato in Romania Dall'idea del violinista Alexander Balanescu Che ricrea il classico Quartetto d'archi In modi originali E variegati E poi c'è la musica Di Sanremo Quella sognata Da due giovani Pesaresi E per una storia A letto fine Che vi mostriamo In questo servizio Vivere Sanremo Nei giorni del festival Un sogno che si realizza Quello dei giovani Pesaresi Federico e Matteo Che da un reel virale Su Instagram Sono riusciti a trovare Il sostegno Per approdare al festival Intanto L'ambita crociera Pre-festival Per poi coltivare Possibilità Non disprezzabili Di entrare Pure all'Ariston Dallo scorso 10 gennaio Infatti il giovane Youtuber e influencer Pesarese Federico Fontana Aveva pubblicato Un video sui social Che aiutasse a trovare Il modo di far vivere Al suo amico Matteo La propria passione Viscerale Verso la massima Manifestazione Canora italiana Un appello accurato Raccolto per prima Dalla consigliera comunale Giulia Marchionni Che ha trovato Terreno fertile In conf commercio E nel tour operator Criluma Io mi sono imbattuta Nel reel Di Federico E di Matteo In cui veniva raccontato Un sogno Federico avrebbe avuto Così il piacere Di andare insieme a Matteo Durante il festival Di Sanremo Di essere lì Io mi sono chiesta Che cosa posso fare Come posso In qualche maniera Essere di sostegno Allora ho fatto Qualche telefonata Una delle quali Tra le prime Ad Agnese Truffelli Alla vice direttrice Di conf commercio E le ho detto Agne proviamo A realizzare questo sogno E così è stato Perché oggi siamo qua Perché finalmente Un piccolo In parte almeno Il sogno di Federico E Matteo Si realizza Grazie a conf commercio Grazie al cuore grande Delle aziende Del nostro territorio Che sono di sostegno E di supporto Allora abbiamo provato A fare un tentativo E non pensavamo Assolutamente Di ricevere così tanto Supporto Da così tante persone Il video è andato Benissimo Sia su Instagram Che su Che su TikTok Tantissime persone Hanno commentato Tantissimo sostegno E c'è stato Grande aiuto Tante persone Si sono offerte Di aiutarci E soprattutto Come oggi Si sono offerti Criluma E Conf commercio Che hanno unito Le forze E adesso Non siamo proprio Riusciti ad entrare A Sanremo Per ora Ancora Incrociamo le dita E però Riusciremo a partecipare Alla crociera Che è pre Pre Sanremo E ci godremo Questi giorni Lì a Sanremo E i giorni successivi Gireremo un po' Tra le vie Per vivere Sì la vita Sanremese Durante i giorni Del festival E la speranza Rimane comunque Viva Che qualcuno Ci noti E poter partecipare A una delle serate Sarebbe veramente Un sogno Incredibile Purtroppo le prontazioni Per il Sanremo Partono dall'anno Pre precedente Per l'anno successivo Quindi ad oggi Prontiamo per il 2025 Diventava sicuramente Una sorta di missione Impossibile Ma non l'abbiamo Assolutamente mollato Perché Lo scopo finale Era veramente Portare Matteo Nella capitale Della musica italiana Visto che lui Poi è un grande Stimatore Del Sanremo Siamo riusciti Grazie a rete di contatti Grazie a Giulia Grazie a Criluma A portare Matteo Al pre Sanremo Cioè lui sarà Sulla costa crociere Godrà tutte le scene Dietro le quinte Del Sanremo E magari Stiamo ovviamente Continuando a lavorare Perché magari Si realizzi anche L'occasione Di poter Affacciarsi Realmente Alle giornate del Sanremo O comunque Goderselo durante La costa crociere Quindi nei giorni Che poi sono dedicati Al Sanremo È sicuramente Per noi una missione Difficile Però una missione Che ci riempie Di orgoglio Come Confcommercio Perché Al di là di quello Che è la nostra Missione Quella del core business Cioè Della tutela Delle imprese Sicuramente Aiutare Una personalizzare I suoi sogni Aiutare una comunità A sentirsi realizzata E per noi Comunque motivo Di stimolo Di crescita Ma è una crescita Anche professionale E anche per le imprese E concludiamo Con lo sport Dopo le dimissioni Di Mario Russo Del 16 gennaio scorso Da presidente Dell'Alma Juventus Fano L'amministrazione Comunale Del sindaco Seri Si è attivata Per individuare Una soluzione Societaria Adeguata A garantire Un futuro E la stabilità Al club Granata Oggi il comune Comunica Che è stato individuato Un fondo Che opera A livello internazionale Disponibile A presentare Un'offerta Di acquisizione Della totalità Del pacchetto societario Con una proposta Economica Che si attesta Fino a 200 mila euro Insieme alla copertura Dei debiti Che sono stati maturati Se questi Dovessero attestarsi Su quanto ragionevole Presumere Non avendo ancora Avuto modo Di visionare La contabilità Societaria Ed Alfano Passiamo Alla Vispesero Per la quale Invece Già oggi Vigilia di campionato Perché la squadra Di banchieri Reduce dal pareggio In casa dell'Entella Valso Il nono risultato Utile consecutivo Sarà al Benelli Domani sera In un anticipo Del venerdì Che alle 20.45 La vedrà opposta Al Gubbio Sesto In classifica Visca in questo Ultimo giorno di mercato Anche ceduto Il terzino Classe 2001 Riccardo Zoia In prestito Alla Ternana Si conclude qui Il nostro telegiornale Rossini News Ma non si concludono Gli spazi informativi Di questa serata Già subito dopo Il notiziario Alle 20 Ci sarà la presentazione Del nuovo indirizzo Musicale Della scuola secondaria Di primo grado Lanfranco Di Gabice Mare E Gradaron Un approfondimento Didattico Musicale Che andrà in onda Appunto Alle ore 20 E poi giovedì sera E la serata D'insieme a Canesso Il nostro approfondimento Sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Condotto Da Elisabetta Ferri Che questa sera Alle 21.20 Avrà come ospite L'ex giocatore Della VL Giuseppe Ponzoni E il giornalista E commentatore Michele Zavagnini Come sempre Con la possibilità Di interazione in diretta Di voi Tifosi I telespettatori Al numero Whatsapp Dedicato 370 366 72 1 0 Altra diretta È quella Naturalmente Del mattino Quella di Buongiorno Rossini La rassegna stampa Dei quotidiani Locali Che come sempre Va in diretta Da partire Dalle 7.20 Dal lunedì Al sabato Dunque Vi aspetto domattina Con la rassegna Buongiorno Rossini Si conclude invece qui Rossini News Vi ringrazio per averci seguito E vi auguro un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei nostri programmi